E allora adesso dopo aver fatto qualche battuta su quello che è il senso di questo territorio che ospita questa mostra importante a città di Castello, cerchiamo di capire l'attività del cavatore ma soprattutto il prodotto tartufo che ricaduta ha su questo straordinario territorio ricco peraltro di risorse culturali. Diciamo che nel nostro territorio la ricaduta non potrei quantificarla in cifre perché diciamo è difficilissimo. Diciamo che si è creata in qualità, si può dire che è ottima, tant'è che i raccoglitori esportano il tartufo, i commercianti, Hong Kong, in America, in tutte le parti del mondo. Quindi questo qua è un segnale positivo per la nostra città e per coloro che ci lavorano, quindi danno un lavoro a molte persone. Ma la filiera dove parte? Il tartufaio è visto come una figura magari anziana, di mezza età. Adesso sta cambiando, adesso anche i ragazzi giovani, di giovane età e donne si sono dedicate a questa cavatura del tartufo. Il tartufo è il nostro oro, lo possiamo definire così. Nella nostra vallata, non so se posso citare alcuni numeri, di 40.000 abitanti, la nostra città ha oltre 2.000 cavatori, quindi questo qua fa pensare il lavoro che c'è dietro. E la filiera è nata dal cavatore al raccoglitore al consumatore, quindi c'è un bel giro di affari e un bel introito. Quindi questo qua per la nostra vallata è molto importante, perché questo qua ci qualifica come da sempre, essendo arrivati alla 39esima edizione, quindi noi siamo orgogliosi della nostra mostra. Cercheremo di adattarci il meglio possibile per farla il meglio possibile. L'assessore che ha parlato magari avrà illustrato la manifestazione. Il nostro territorio, ripeto, essendo a Cerniera, fra le Marche, la Toscana e l'Emilia, quindi una zona montuosa, collinare, sull'Appennino, quindi una terra ricca di tartufo. Io posso dire, se me lo concede uno sfondone, potrei definire la capitale del tartufo. E come la mettiamo con le altre? Le altre hanno un'importanza al pari della nostra, potremmo dire le capitali del tartufo, possiamo dire così. Mi piace questa cosa, magari una rete. Anche perché nella nostra regione, nella nostra città, noi abbiamo il tartufo tutto l'anno, abbiamo quattro tipi di tartufo. Ecco, questo mi interessa molto, approfondiamo questo, perché tartufo tutto l'anno? Tartufo tutto l'anno perché la stagione del tartufo si divide in quattro fasi. Sì, quindi c'è il primo che viene nel periodo invernale, ottobre a gennaio, adesso le date potrei magari sbagliarmi, però che parte con la trifola, che è il tartufo pregiato. Il bianco, esatto. Questo è quello pregiato. Poi andiamo al bianchetto la marzolina, poi andando avanti c'è il nero scorzone e poi c'è il nero dolce. Insomma, sono quattro tipi di tartufo che per noi sono tutti quanti oro, perché per quelli che lo mangiano e per quelli che lo vanno a trovare e per chi lo esporta. Oro bianco e oro nero. Questa sarebbe la definizione giusta. Grazie. 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 Grazie.